La primavera In ogni caso il prossimo anno contiamo di ritornare nella nostra data, i primi di aprile, in primavera perché abbiamo visto che siamo più tranquilli sia con il tempo e abbiamo visto che riusciamo anche a tirare su più equipaggi. Quest'anno abbiamo meno equipaggi però sono ancora problemi con la pandemia, non siamo ancora purtroppo ritornati alla piena normalità, contiamo di ritornarci presto. Grazie